La crisi da sovraindebitamento legge 3 gennaio 2012. Questo il tema del convegno che svoltosi nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Caltagerona ha fatto registrare la partecipazione di numerosi relatori che hanno chiarito gli aspetti tecnici legati all'applicazione della legge 3 del 27 gennaio 2012. La norma prevede il ricorso a una procedura di esdebitazione riservata a quanti non possono accedere alle procedure previste dalla legge in materia fallimentare. Il presidente della sesta sezione del Tribunale di Catania, la dottoressa Marisa Acagnino. G3 del 2012 è uno strumento formidabile che serve a dare una risposta alla disperazione di tanti che avendo contratto un debito, ad esempio il mutuo per l'acquisto della casa, in una condizione in cui potevano permetterselo perché ad esempio due coniugi erano entrambi retribuiti o anche uno solo aveva una retribuzione che poi è venuta a cessare per cassa integrazione o altri motivi, o situazioni in cui vi sono malattie o necessità di far fronte a impedimenti familiari. Ecco, in queste condizioni quando un debitore è in una condizione di non poter pagare i propri debiti per motivi che non dipendono dalla sua volontà, può accedere a queste procedure che consentono una riduzione in percentuale del debito e anche una dilazione diversa. Quindi si può pagare il mutuo invece che in 10, in 20 anni, si può pagare il mutuo riducendo ad esempio del 50% o del 40% gli interessi pur pagando il capitale. Quindi l'importante è dare un messaggio di speranza a tante persone. Il procedimento previsto dalla legge 3 del 2012 è quindi rivolto ai privati e alle piccole imprese, permette la cancellazione dei debiti pregressi del debitore, sia persona fisico o ente, compreso quelli verso il fisco nei confronti di Equitalia. La legge in alcuni casi mostrerebbe anche alcuni aspetti complicati sotto l'aspetto procedurale. I lavori al convegno sono stati moderati da Giacomo Pulvirenti, avvocato del foro di Caltagirone. Questa è una risposta e attraverso sia gli organismi di composizione della crisi che attraverso il ricorso al giudice è efficace per le persone che si trovano in difficoltà.